Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la ginnassa del CSB. Oggi ci butteremo dentro un cerchio. Ma dovete riuscire a passare senza toccarlo? Sì, in teoria tu devi rimanere lì ferma. Ok. Brava! Sì, hai scelto la sedere. Brava! È partito con la Emma. Eh! Che bello! Fate un altro giro? Dai! Dai, un altro giro. Rimani dritta Fede, dritta, dritta! Ah! Però non devi abbassare le spalle. Se abbassi le spalle lo prendi con le gambe, eh? Vediamo. Cambio inquadratura. Così si vede bene che passa nel cerchio. Uno dipanghi piace. Prendi un attimo! Prendi un attimo! Belgi un attimo! Grazie a tutti. Meglio di prima. Ha girato quel cerchio. Grazie a tutti.